dai che bastardo ma è proprio una merda oh no due due perché c'è c'è anche asia asia pink quella che ogni tanto entra con lei vado a ballare c'è entrata questo è il karma ma com'è perché ci sono tutte queste cose amoste migliori ma secondo te ma secondo te ma cos'è il garage delia ma facciamo le migliorie ma stai scherzando è ok è è adesso gli spari esplode eh ha fatto boom ok non l'ho capita non l'ho capita